Mi è mai capitato di essere stati maltrattati dai ragazzini da una ragazza e credere di non piacerli, ma poi anni dopo ripensare e dire Aspetta ma, forse... sigla Ciao ragazzi sono Zergantis e benvenuti in questo anime della domenica, la nostra rubrica dove parliamo di anime e manga della domenica in modo umile Dove vi porto quello che mi piace, le mie impressioni, le condivido con voi perché è una cosa che mi rende molto felice e creiamo sempre una bella discussione qua sotto nei commenti Oggi questa volta vi voglio parlare di un personaggio specifico, Nagatoro, sapete che l'11 aprile uscirà su Crunchyroll perché mi chiedete sempre dove guardi i tuoi anime Io ho un abbonamento Crunchyroll che pago e quindi lo guardo lì, che è Don't Tie With Me, Miss Nagatoro, che poi nel manga lo trovate Please Don't Bully Me, Nagatoro In giapponese dovrebbe essere una cosa che non so pronunciare, quindi in italiano per favore non bullizzarmi in Nagatoro È l'autore Nanashi ed è uscito la prima volta al volume del 2017, il primo novembre se non sbaglio, nella rivista Magazine Pocket È ragazzi una commedia sentimentale Slice of Life di Target Shonen Vi farò una discussione un po' veramente super alla larga perché sì il manga c'è ma l'anime non è ancora uscito, uscirà almeno quando esce questo video il manga non sarà ancora uscito, avrete solo il trailer E vi parlo di questa opera perché già su internet avete tantissime fan art, tantissimi collage, tantissime animazioni del personaggio di Nagatoro Perché sembrerebbe che appunto i ragazzini e i ragazzi in generale siano impazziti per questo personaggio per vari motivi Il primo tra tutti il disegno che io trovo bellissimo, a me piace da matti, infatti penso che in copertina ci sia tipo lei bellissima con quell'occhio psycho e quell'orecchino qua Vabbè ne parleremo di questo Di che cosa parla in grandissime linee perché chiaramente io non vi faccio spoiler e laddove ci fosse un po' di spoiler vi fermo sempre prima quindi non temete Però visto che non è ancora uscito l'anime vi dico a grandissime linee Immaginatevi questo personaggio che chiameremo Senpai perché il nome non lo sappiamo di fatto fino a un determinato punto del manga Quindi non penso neanche nell'anime salti fuori che a causa di un evento particolare che rivela il fatto di essere una persona molto introversa ma molto brava a disegnare Viene preso di mira da un gruppo di ragazzine come bullizzato ma lo metto tra molto virgolette perché il bullizzare è una cosa diversa Molto pesante, io gli do un valore molto pesante quindi una cosa un po' diversa Tra queste ragazzine c'è Ayase Nagatoro, Nagatoro è quella che praticamente è un po' più la sadica di tutte e lo bullizza di più diciamo così Nonostante sia di un anno inferiore, lei sia del primo anno, lui sia del secondo anno per questo lo chiama Senpai E continua, lo stuzzica, lo stuzzica, lo stuzzica e sembra che lo si vizi Non è proprio così, in verità sembrerebbe appunto che questa cosa sia l'unica cosa che gli avvicini E che sia forse l'unico modo di due persone completamente opposte per interagire tra di loro poiché c'è un interesse E questo lo possiamo tranquillamente, possiamo parlare di questo traslandolo nella vita di tutti noi se abbiamo passato almeno le medie io penso Non mi è mai capitato che da ragazzini, a me è capitato una volta la verità che c'era questa ragazza che a me piaceva tanto Però io non riuscivo, ragazzi andavo alle medie capite un po', piccolo zerganti sale medie non era un cuor di leone Non riuscivo ad esprimere tanto bene e lei un po' per possessività e un po' per, non lo so come dire Perché anche lei forse non voleva che magari facessi io il primo passo, mi menava Mi pecchiava, non dalla mattina alla sera, però ecco quando doveva esprimere un po' i suoi sentimenti O c'era una situazione un pochettino più e bon, secco, mi dava sto colpo, mi dava ste botte Doveva sempre vincere lei, doveva sempre schiacciarmi lei, giocavamo a ping pong, stavo per vincere io, arrivava, mi menava e vinceva lei Era sempre questa situazione qua Anni dopo ho capito che io a questa persona piacevo e io non me ne ero per niente accorso O probabilmente comunque teneva molto a me, teneva tanto a me, magari magari non piacere Ecco, la situazione che andrete a vivere all'interno di questo manga, barra anime, è molto simile Piena di queste situazioni di apparente maltrattamento ma che in verità nascondono dei piccoli passetti, dei piccoli progressi in una relazione Che purtroppo a causa di difficoltà enormi di comunicazione per incompatibilità di caratteri probabilmente Va solo in quella direzione lì, in quel modo lì, in maniera che vi farà ridere, vi farà un po' cringiare No, io vi immagino che leggete, almeno io facevo così, leggevo questo manga, vedevo queste, hi hi, e grignavo, no? Perché dicevo, ma guardate questi due scemi Però, che fanno queste cose qui È un po' una situazione opposta ma che si unisce con, forse un pochettino, un fil rouge a Teasing Master Tagaki-san Se avete mai visto Tagaki-san, ecco diciamo che è una situazione simile Perché abbiamo di nuovo appunto una ragazzina che è un po' più furba, un po' più sveglia, un po' più avanti E lui che è un pochettino lì, un becelone con sta bocca aperta tipo pesce Che continua questa lotta impari, che non potrà mai vincere, che determina la sua inferiorità Ma la sua dolcezza che tanto è apprezzata dall'altra parte, ecco Quindi si potrebbe fare poi un video dove mettiamo un po' a confronto queste due opere Seppur così tanto diverse, ma che ricordano un pochettino quello spirito, quel tempo storico Anche scolastico e è una situazione un pochettino divertente La cosa che a me più ha colpito di Nagatoro è innanzitutto Non tanto da quello che ho visto nel trailer E non so se ve lo posso far vedere qua a schermo, ora non vedrò Non lo so Più dal trailer dell'anime nel manga il disegno di Nagatoro è qualcosa che a me ha lasciato... Mi piace tantissimo lei Lei ha quell'espressione che a moltissimi di voi piace, un po' psicopatica Con l'occhio aperto, un po' chiuso, sadica con questi canini a guzzi, no? Molto gattina Che la rendono secondo me meravigliosa all'interno del disegno del tratto Io poi non sono un artista, però quello che ho visto mi è piaciuto tantissimo E non solo a me Lei poi ha un carattere che mi fa riderissimo Lei è super dinamica, super karateka, nuoto, super... Però è bassina, è piccola, è cattiva, ma in verità è super insicura E non sa come affrontare la sessualità con il povero senpai E quindi è un continuo... Ah, vorresti farmi questo? È sfigato Ah, vorresti farmi quest'altro? È sfigato E quell'altro che la guarda? Ma tu da me che cosa vuoi in verità? Diventa una relazione davvero, ragazzi, di dipendenza A sua fazione di Nagatoro Non ne puoi più fare a meno, non ne puoi più fare a meno lui E a me sta roba è piaciuta veramente a dei livelli incredibili Per quanto riguarda l'anima invece La regia è di Hirokatsu Hanai E lo studio è il Telecom Animation Film Ora, ripeto, da quello che ho visto nel trailer Rispetto al manga, manga tutta la vita Ma questo poi è un discorso che si può fare molto più ampio Però ho paura che vada un pochettino a perdere quella cosa potentissima Che appunto sono le espressioni di Nagatoro quando è sadica Questo... Detto questo, l'ultima cosa che mi viene da specificare, da sottolineare È che probabilmente avremo... Preparatevi all'invasione di Nagatoro ovunque Fan art, disegni, situazioni, AMV Troverete di tutto con Nagatoro Perché reputo che sia un personaggio talmente iconico Talmente nelle corde di una grandissima parte di pubblico Che la farà schizzare in classifica Questa è la mia predizione Posso sbagliare Posso... Probabilmente magari non sarà così Ma io in cuor mio Credo che ci ricorderemo tantissimo di Nagatoro Anche nel tempo a venire Come uno dei personaggi Almeno nel 2021 Più esaltati in giro come rappresentazione artistica Io vorrei sapere che cosa ne pensate voi Se avete letto il manga Se avete seguito il trailer E se avete già visto la prima puntata Ed è l'11 aprile E siete tornati su questo video Ditemi che cosa... Qual è la vostra impressione sul primo argomento E di che cosa ne pensate Mi piacerebbe tanto avere una discussione qua sotto Riguardo a questo Per il resto io vi invito a iscrivervi se non l'avete ancora fatto Lascia il mio like A seguirmi anche su tutti i miei altri social Se va bene questo video potremmo veramente Allora io non so i numeri perché non sono così esperto Per dirvi raggiungiamo almeno 100 like Boh... Facciamo 200 like Non lo so è la prima volta che lo faccio E facciamo il rapporto tra Don't toy with me Miss Nagatoro E teasing master Tagaki-san Proviamo a fare un rapporto tra queste due opere Sarebbe una cosa divertente Vi invito anche a seguirmi su Twitch Lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 e 30 Con Genshin Impact La domenica alle 21 Con il nostro Just Chatting Dove parliamo di tutto anche di anime e manga Martedì, mercoledì Martedì, ciovedì Cominceremo a streamare a pomeriggio Ora poi vi farò sapere Seguitemi su Instagram per scoprirlo Vi auguro una buona serata United State of Zerga Ciao belli Ciao belli